spirito appunto di questo incontro è quello di proporre le stem non come una o magari ancora meglio la robotica del coding come qualcosa di a parte che si fa a parte ma di qualcosa che può deve forse addirittura integrarsi con le discipline per cui cercheremo di farvi vedere come queste queste novità che poi novità tanto non sono insomma queste per qualcuno sì per altri diciamo magari ci navigano già da anni come il nostro Giampiero queste discipline nuove si integrano con le discipline tradizionali che ci sono all'interno della scuola e quindi cercheremo di fare vedere questo e poi naturalmente la scuola cerca di lavorare sempre di più a un indirizzo ministeriale ma è qualcosa in cui molti di noi docenti credono profondamente si cerca di lavorare sempre più per competenze e quindi la robotica e il coding ci consentono di sviluppare naturalmente le competenze digitali ma anche di svilupparne molte altre pensate semplicemente al problem solving che chiaramente è sempre pronto lì e se costruiamo bene la nostra attività didattica davvero possiamo fare fare dei passi avanti ai nostri alunni dal punto di vista della logica che si riversano quasi visibilmente nei progressi anche nelle applicazioni didattiche che richiedono queste stesse competenze per cui questa è una cosa molto importante per non parlare del fatto che ci sono anche ordini di scuola laddove non so la tecnologia non è che ha una materia particolare c'è ma è un po di tutti come nella scuola primaria e quindi queste attività sono proprio cadono a fagiolo per integrare le competenze di tipo tecnologico con quelle di tipo scientifico disciplinare linguistico ce ne sono veramente tante artistico però vedere tra poco anche un esempio di quel e naturalmente l'abbiamo anche la possibilità facendo questo tipo di percorsi di aiutare i nostri ragazzi alunni bambini anche ragazzi delle superiori piuttosto grandi a comprendere il mondo in cui vivono perché il mondo in cui viviamo tutti noi oggi è pieno di robotica e di coding se non avessimo il coding non saremmo qui a fare questo incontro perché nessuno avrebbe programmato l'applicazione che stiamo usando e la robotica e la sensoristica è ormai dentro tutto e quindi parto subito a farvi vedere una cosa perché tra l'altro una delle cose che frenano noi docenti a volte è lo scalino scalone che sentiamo di avere dal punto di vista delle nostre competenze personali per riuscire ad avvicinarsi al mondo del coding o della robotica però ci sono delle cose anche veramente veramente molto semplici quindi una cosa che mi è venuta in mente di farvi vedere è vediamo se riesco a farvi vedere ecco qui vedete diverse cose poi avete già capito che dopo parleremo anche di questo ma sulla parte destra invece abbiamo il mio anzi lo metto al centro così non ci disturba troppo abbiamo il un cellulare e tra queste in questo cellulare c'è vediamo se possiamo anche ingrandirlo un pochettino forse ecco e ci sono varie applicazioni tra cui c'è un'applicazione si chiama arduino sj ok che sta per science journal questo soltanto per farvi vedere se resta grande più bello e che semplicemente con un cellulare un'applicazione gratuita possiamo fare robotica cellulare ce l'abbiamo tutti e magari lo mettiamo sconnesso dalla rete per non ricevere telefonate durante l'attività didattica e possiamo andare a vedere semplicemente con i sensori che abbiamo a disposizione nel nostro cellulare alcune misure che possiamo fare direttamente con i nostri alunni per esempio questa è la misura della pressione atmosferica la pressione e nel nostro caso l'unica cosa che c'è intorno al cellulare l'atmosfera e vedere anche eventualmente come varia chiaramente la pressione atmosferica non varia molto velocemente per cui non è l'esempio migliore però ad esempio vedete possiamo ok usare la bussola e vedere come varia ovviamente in seconda dell'orientamento ma ancora meglio ad esempio andare a vedere come varia quello che rileva il nostro microfono oppure quello che rileva a livello di luminosità la nostra fotocamera se io metto il dito adesso ho messo il dito davanti alla fotocamera la luminosità è diminuita ed è aumentata se invece allontano il dito per non parlare addirittura della misurazione del campo magnetico se adesso avvicino un cellulare all'altro vedete che il campo cala se invece il cellulare resta da solo il campo aumenta e ce ne sono diversi questo solo per dire che possiamo far vedere ai nostri alunni delle applicazioni concrete fare anche sperimentare laddove magari invece del cellulare personale nostro usiamo i tablet dell'istituto o dispositivi portati dagli studenti quindi possiamo fare sperimentare la sensoristica direttamente ai nostri studenti e questo era un primo esempio solo per dirvi di quanto è semplice e un'altra cosa per cui molti sapranno che il coding è semplice e per noi è un po il punto di partenza per tante esperienze per chi si vuole avvicinare a questo mondo anche come docente è naturalmente scratch scratch che probabilmente di nome se non altro tutti conoscono ma che a volte viene anche diciamo pensato come qualcosa per imparare il coding e che rimane un po in una specie di scatoletta scratch per chi non lo sapesse è disponibile a questo indirizzo internet scratch.meet.edu gratuitamente e tra l'altro senza neanche bisogno di registrarsi per fare i programmi magari poi vogliamo registrarci per salvarli oppure scaricare l'applicazione per salvarli sul nostro computer ma quello che voglio farvi vedere oggi è il fatto che scratch si può usare per fare anche cose che non sono prettamente coding per esempio qualcosa di artistico e tra l'altro l'acronimo stem sapete che è anche esteso con l'aggiunta della a per aggiungere le arti perché non sono sicuramente il primo ad avere proposto questa cosa allora senza entrare ovviamente nei dettagli di come funziona scratch per chi non lo conosce però adesso voglio farvi vedere come si può utilizzare scratch per fare una semplice attività di arte che tra l'altro è un inizio poi uno da qui può sviluppare veramente il mondo e sfrutteremo la possibilità di utilizzare una estensione che è inclusa diciamo nel nostro scratch ma va aggiunta con quel più che c'era in basso che è l'estensione penna un tempo era già inclusa senza neanche dover andare a richiamare l'estensione penna ci consente di disegnare mano a mano che il nostro personaggio il nostro sprite si muove sullo schermo quindi se io metto il comando penna giù vuol dire che la penna si appoggia sul nostro stage quindi sul nostro foglio per noi e poi mano a mano che io muovo il nostro personaggio per esempio anche semplicemente con 500 passi il personaggio vedete che oltre a spostarsi lascia un tratto di penna è possibile addirittura potrei anche dire consigliabile nascondere il personaggio per è una cosa un po magari non immediata per per tutti ma se io voglio posso fare in modo che il mio personaggio si nasconda scompaia dallo schermo e quindi cosa rimane quando avvio il programma si traccia semplicemente la linea e quindi rimane il tratto e posso usare il coding per disegnare allora aggiungo solo un paio di comandi che sono utili per poter partire sempre da zero quindi ogni volta che avvio il programma si cancellerà quello che c'è sullo schermo e ogni volta che avvio il programma il mio il mio cursore diciamo comincerà dal centro zero zero vado a rifar partire il programma e quindi praticamente ogni volta si dovrebbe cancellare tutto e ripartire con un tratto di 100 passi ora cosa posso fare ancora per fare qualcosa di un pochino più serio che una linea no? allora intanto anche aggiungo un'altra cosa faccio che la penna diventi un po più grossetta la facciamo diventare a 5 così il tratto diventa un po più grosso e poi vado magari a intanto rendere più creativo questo semplice passaggio di 100 pixel dal centro verso destra utilizzando il comando scivola che vuol dire che per noi sarebbe il personaggio che si muove ma al tratto si traccia nel tempo che prevedo io di un secondo quindi a differenza di prima se adesso faccio partire che stanno che però non si cancelli del tutto non si vede molto dovrebbe cancellarsi completamente lo schermo ma non so se c'è come sempre qualche simpatico bug facciamo che cambiamo colore così si vede meglio andando a far partire il programma dovrebbe diciamo disegnarsi con un pochino di più tempo proviamo a andare avanti con il programma così capite meglio dove vi voglio portare voglio per esempio dire che si può spiegare chiedere agli alunni perché poi nel coding e nella robotica il trucco è che non va spiegato come si risolvono i problemi va posto un problema e gli alunni trovano delle soluzioni che noi sappiamo che sono alla loro portata magari con qualche suggerimento e tante volte poi alla fine trovano delle soluzioni che noi non avevamo pensato e che risolvono il problema nello stesso modo qual è il problema che potrei porre ai miei alunni disegniamo un quadrato con scratch scratch non nasce per disegnare ma ha una bellissima estensione per disegnare e quindi voglio andare a disegnare il quadrato e quindi devo capire utilizzando tra l'altro il sistema di coordinate x y che già solo questo secondo me utilizzando scratch è un grandissimo aiuto perché vedo che i miei alunni capiscono il sistema cartesiano molto meglio utilizzando scratch che in qualsiasi disegno che possa io fare alla lavagna allora adesso andiamo a definire il primo lato poi il secondo lato del quadrato quindi la nostra penna passa sopra il tratto che ha già fatto e adesso fa il secondo tratto poi naturalmente dobbiamo aggiungerne altri due ok andiamo di aggiungerli e quindi adesso vado a 0 100 e a 0 0 quindi adesso il programma riparte e devo avere fatto già qualche simpatico errore ah sì no perché naturalmente il mio errore è stato che via x 0 0 deve essere con la penna sollevata perché altrimenti la penna resta sempre tracciata e lui dal punto in cui parto mi fa anche il tratto ma se parto dall'inizio diciamo senza avere la penna già in un punto particolare il quadrato si traccia che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che gli alunni anziché disegnare magari con un software di disegno o con la penna direttamente hanno dovuto pensare qual è la procedura che anche loro utilizzano con carta e penna per disegnare un quadrato e l'hanno riportata su scratch forse se c'è qualche insegnante di arte o che insegna arte si sarà chiesto ma questa non è proprio arte ma è più geometria matematica certo ma da qui si può partire per fare delle cose anche più artistiche già per esempio semplicemente andando a far ripetere questa sequenza magari se la becchiamo giusta è meglio questa sequenza varie volte e ogni volta andiamo a cambiare il colore quindi cambia colore di 10 adesso vediamo cosa succede faccio ripartire il programma lui traccerà lo stesso quadrato 10 volte ma ogni volta con un colore diverso ora non sarà un'opera d'arte degna di andare alla Biennale di Venezia però è una cosa carina allora da qui ovviamente le cose carine deve partire la proposta naturalmente del docente e l'apporto naturalmente creativo che daranno gli studenti quindi si può anche chiedere a loro dopo che hanno imparato a fare il quadrato come potremmo abbellire questo programma e farlo diventare appunto artisticamente più carino vedrete che poi i bambini e i ragazzi sono i primi qualcuno magari anche proprio esperto di scratch perché la usa già a casa però di solito le idee non mancano allora vedete tra l'altro che c'è la mia collega Elisa che alza la mano vuoi fare una domanda Elisa? forse no 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 Lorenzo scusa ho sbagliato ho sbagliato perché stavo cercando perché è piccolino allora devo avvicinarmi molto per leggere i comandi che hai inserito ok e solo l'ultimo pezzo cioè quando tu ripeti quando tu ripeti di 10 cioè tu ripeti 10 volte e l'ultimo comando deve essere il cambiacolore o il primo? è indifferente? a seconda questo è il classico problema di coding dove va il cambiamento nel loop se lo metto in fondo so che il primo quadrato sarà di questo colore e gli altri di altri colori diversi se lo metto dall'inizio già il primo quadrato non sarà azzurro ma sarà del colore che è 10 numeretti dopo nella scala dei colori di scratch ok ok grazie una domanda ce l'avevo argomento da discutere con i bambini con i ragazzi nel senso che cambiare il punto dove cambiano le variabili si direbbe è importante in un loop e questo lo sa qualsiasi programmatore ed è interessante che lo sappiano anche i bambini e i ragazzi bene non voglio soffermarmi troppo su scratch perché voglio farvi vedere anche un'altra cosa ma naturalmente fate pure domande oppure anche alla fine ci fermeremo come sempre se avete voglia di chiedere qualche cosa e avrete intravisto che appunto avevo inquadrato lego brainstorms EV3 che è questo robottino della lego che tra l'altro la camera si è spostata e la batteria si sta scaricando ma speriamo di farcela in tempo allora questo robottino della lego è abbastanza famoso perché è una serie che è uscita anche abbastanza anni fa e ci sono anche serie più nuove ma EV3 ha dei diversi vantaggi diciamo che non sono stati ben soppiantati dalle nuove uscite con lego brainstorms EV3 si può fare veramente di tutto perché naturalmente il vantaggio è che il robot è costruito con il lego quindi questo è il robot tra virgolette base che viene consigliato di costruire e su cui si appoggiano tante applicazioni anche semplici ne trovate tante anche su internet idee di altri docenti eccetera ma naturalmente si può smontare e rifare il robot in maniere molto diverse quindi questo già ci dà la grande versatilità e la facilità del lego che già di per sé è facile più sappiamo che tutti gli alunni hanno avuto l'esperienza con il lego quindi diciamo qualcosa di familiare lo dico anche perché l'intento di oggi è anche un po' farvi vedere delle esperienze che in questo caso io e Giampiero ma se poi vuole intervenire qualcun altro ben venga abbiamo un po' selezionato nel tempo perché il parco di applicazioni della robotica è molto ampio anche di prodotti semplicemente che possiamo comprare come scuola ma noi abbiamo fatto delle scelte ma che non vuol dire siamo aperti a molto altro e a tutte le cose nuove che arrivano ma ci sono dei vantaggi questa ad esempio è una piattaforma che dà la possibilità di fare cose molto sofisticate sono stati fatti addirittura dei prototipi industriali partendo con lego minds on 6v3 ma contemporaneamente avere qualcosa alla portata dei nostri alunni perché in particolare perché soprattutto nell'ultimo periodo l'interfaccia è sempre quella della programmazione a blocchi ed è stata diciamo ormai è simile a quella di scratch e questo facilita anche il passaggio da una cosa all'altra quindi cominciamo anche con i nostri alunni con scratch magari anche in terza elementare che non è che sia per forza troppo presto addirittura anche prima con scratch junior e poi andiamo semplicemente ad aggiungere delle cose quindi ad aggiungere il fatto che i nostri motori si attivino oppure addirittura semplicemente il nostro robot vada in avanti di una rotazione vediamo se riusciamo a farlo in tempo reale perché c'è la finestra che va sopra o sopra ecco vediamo adesso se va ah sì naturalmente devo anche farvi vedere il robot non solo il programma allora scusate vediamo se riusciamo a fare una cosa efficace e quindi unire le due cose insieme quasi ce la facciamo quindi io faccio partire il mio programma e il robot si muove ok semplicissima cosa cosa volevo dirvi e lo dirò in pochi secondi cioè in pochi minuti solo come stimolo perché purtroppo non abbiamo il tempo in un webinar gratuito di spiegare andare nei dettagli di tutto un'esperienza che ho fatto anche più volte con il mio istituto anche altri di lavoro con EV3 è lavorare sul concetto di misura in particolare in questo caso parliamo della secondaria di primo grado e qui avevo anche riportato sul mio tavolo un qualcosa da misurare che è uno spazio una lunghezza da misurare sul tema della misura veramente si può lavorare tantissimo e in particolare noi partivamo addirittura senza robot per esempio proprio con il Lego come posso misurare se ho solo a disposizione il Lego questo spazio questa lunghezza perché naturalmente siamo tutti abituati a parlare in centimetri ma il concetto di unità di misura per gli allunni non è così immediato e allora fare questa esperienza per esempio è utilissima perché loro dicono vabbè lo misuro con i mattoncini quindi quant'è questa lunghezza è 5 mattoncini 10 mattoncini ah bene allora cos'è un mattoncino come facciamo a definirlo lo sappiamo è questo qui il mattoncino allora anche il metro gli si può spiegare è in realtà un mattoncino un listello depositato a Parigi eccetera eccetera poi insomma c'è stata tutta l'evoluzione nei sistemi per definire la misura del metro però si parte da una riflessione e dal risolvere un problema cioè il problema è devo misurare questa distanza la posso misurare con i mattoncini Lego e quindi in mattoncini oppure e poi si va avanti col lavoro inserendo la robotica la robotica ci offre in verità ma all'inizio cerchiamo di non farglielo scoprire dagli studenti oppure lo smontiamo perché ci sarebbe già incluso un bel sensore a ultrasuoni che misura in tempo reale lo si vede qui vedete che qui se metto la mia mano adesso è a 7 centimetri adesso a 20 centimetri eccetera magari all'inizio non gli si mette il sensore a ultrasuoni lo mettiamo dopo però anche lì va fatta una riflessione sul fatto che devo metterci la mano sul fatto che la misura non è mai precisa l'errore eccetera ma senza il sensore a ultrasuoni come faccio a misurare con il robot è naturalmente facendo muovere il robot e vedendo o per quanto tempo deve muoversi o per quante rotazioni deve muoversi e trovare quindi un altro modo per misurare questa distanza non diamo soluzioni agli alunni come dicevo prima diamo problemi li mettiamo in varie situazioni quindi tipica è quella di mettersi in gruppo di lavorare insieme e dover proporre una soluzione entro un certo tempo e magari alla fine anche presentare ai compagni la soluzione che hanno trovato poi non è detto che questo debba essere sempre e comunque il percorso perché poi i gruppi magari parlano tra di loro e quindi alla fine arriviamo che tutti hanno trovato la stessa soluzione guardandosi a vicenda e quindi sì non è che per forza deve funzionare sempre nello stesso modo fluido siamo abituati come docenti a raddrizzare il tiro mentre andiamo queste diciamo che erano le proposte che volevo farvi vedere in realtà ne avrei anche altre cito solo perché poi anche Giampiero parlerà anche di altre possibilità di piattaforme un'altra cosa che all'inizio avevo pensato di farvi vedere era la piattaforma Arduino che anche questa è molto famosa però ho voluto appositamente tra virgolette abbassare il tiro perché per lavorare con Arduino servono un po' di competenze in più docente è bene che abbia una infarinaturina di elettronica ad esempio di modo che sa di che cosa sta parlando però quello che voglio farvi vedere è che ogni docente si può mettere a livelli diversi dentro la robotica al coding c'è chi magari adesso ha scoperto che esiste Arduino Science Journal se lo scarica sul cellulare e farà vedere agli alunni come si misura il campo vedere che vale il campo magnetico chi passerà a Scratch chi magari si avventurerà con EV3 e chi è già avanti con le cose magari conosce anche un po' di elettronica o vuole fare dei percorsi con noi per avvicinarsi e magari passerà ad Arduino vi passerei la parola a Giampiero lasciando spazio alle sue proposte sì grazie grazie Lorenzo allora intanto sei partito con Scratch e devo dire che Scratch è diciamo l'anello forse fondante del coding e della robotica per noi per esempio della scuola primaria in quanto introduce e poi ci fa fare anche dei percorsi strutturati a più livelli ma anche che possono impiegare poco o tanto tempo e poi è facilmente integrabile poi con la robotica quindi partirai un po' anch'io da Scratch e vi dico per esempio che con Scratch mi sono trovato benissimo a lavorare con con questa con questo tipo di schedina che sarebbe il microbit dopo vi faccio vedere come si può integrare facilmente e parlando di questo microbit in realtà vi dico che non è una scelta che vi sto proponendo così per motivi commerciali io sono un animatore digitale sono un maestro elementare quindi anch'io ho fatto lezione in classe fino a poche ore fa e sono arrivato a una serie di conclusioni passando attraverso dei percorsi di sperimentazione soprattutto anche dovuti a queste a queste nuove a questo per esempio al bando che c'è stato legato allo STEM che ci darà la possibilità per esempio come istituto di fare degli acquisti e quindi io già l'anno scorso sono partito chiedendomi ma che cosa posso fare io per la scuola primaria e per la scuola media su che tipo di percorsi su che tipo di soluzioni per cui mi sono messo a sperimentare un po' varie schedine quindi ho fatto dei percorsi di formazione e di autoformazione con Arduino con il citato e poi selezionato microbit ho provato il Cremble della Redfern ho provato utilizzare i Raspberry ho provato a utilizzare i Lego in questo caso nella versione Lego Spike Lee quindi cinque soluzioni e per metterle bene a confronto per capire come muovermi ho mirato a un obiettivo comune cioè far muovere una car un robot car e vedere che cosa mi comporta riuscire a farlo attraverso cinque sistemi diversi e devo dire che ho trovato tante idee che poi tante criticità tante criticità legate se filtrate se diciamo filtro questa sperimentazione con quelli che sono i limiti per esempio della scuola primaria in termini di ore in termini di competenze messe in gioco in termini di economia quindi di acquisto di materiali e devo dire che tutti hanno dei vantaggi tanti hanno dei difetti e la soluzione secondo me migliore è questa soluzione della microbie di cui vi parlavo e vi dico solo una piccola panoramica di criticità Arduino come hai detto tu richiede troppe competenze per una scuola primaria bisogna saperne qualche cosa di elettronica un po' con tutti anzi l'elettronica anzi forse tutti questi dispositivi in realtà ci facilitano anche l'introduzione di alcuni concetti di elettronica delle forze per esempio appunto elettrica magnetica eccetera però diciamo che qui bisogna anche un po' stare attenti perché si tratta di ping molto piccolini ed è facile anche mettere in cortocircuito per esempio la scheda e renderla inutilizzabile il Lego Spike Lee è bellissimo al difetto che costa tanto costa tanto non troppo costa il giusto per quello che è è una bellissima tecnologia questo è un motore al quale come hai fatto vedere tu in maniera simile si possono questa è una batteria e c'è anche il controllore all'interno che riceve le informazioni dal computer via bluetooth o via cavo e poi muove i motori o i sensori o attiva i sensori per ottenere i nostri ciò che vogliamo insomma il difetto di questo secondo me è che possono sparire un po' di pezzi perché sono compatibili con i giochi che hanno a casa i bambini e costa e costa un po' tanto nel senso che con uno di questi mi compro per esempio 10 o 20 microbit con i quali mi allestisco un intero laboratorio di coding robotica e poi per esempio questo crumble della Redfern è una veledissima scheda che ci permette di creare in maniera facilissima delle macchinette che si muovono partendo da materiali semplici una scatoletta di cartone due motorini di sì di quelli che posso comprare su ebay per pochi euro e attaccandoli con dei cavetti a cocodrillo e posso far giocare i bambini costruendo in maniera educativa intendo costruendo queste macchinette che possono fare dei percorsi programmati e quindi fargli raggiungere degli obiettivi che che doppi cioè lavorano prima teoricamente qui e dopo vedono il risultato e lo correggono passo a passo poi ci sono i raspberry che è un'altra validissima soluzione ma hanno il difetto di essere un po' come gli arduino troppo delicati nella gestione di questa di questa scheda di questa interfaccia a ping dove i bambini devono stare molto attenti a inserire correttamente i contatti altrimenti anche qua si rischia la bruciatura però il vantaggio del raspberry è che oltre a essere una scheda poco costosa questo è nella versione P3 a più e quindi costa intorno ai 30 euro questa scheda qua ma è un vero computer cioè un vero computer vuol dire che io qua ci attacco il monitor ci attacco la tastiera e un mouse e ho un ambiente desktop simile a windows quindi e quindi questa scheda oltre che per la robotica può essere utilizzata come computer come computer desktop e come computer desktop ha già fornito in ambiente linux in una versione linux pensata per l'ambiente scolastico ha già degli strumenti per il coding come per esempio è già installato scratch e sono già installati molti applicativi tra cui per esempio è molto interessante Minecraft il famoso videogioco a blocchetti nella versione gratuita quindi cioè comprando uno di questi lo attacco a tastiera mouse e posso avere a disposizione anche Minecraft che cosa ci si fa con Minecraft è questo videogioco non so se avete presente dove l'omino in un ambiente tridimensionale deve muoversi per costruire delle cose beh sì gli si può far costruire bambini ambienti la casa della strega della fiaba che si è raccontato oppure il villaggio non so la città babilonese la piramide egizia il tempio greco e soprattutto questi quasi possono interfacciare tra di loro e quindi i bambini giocano nello stesso ambiente virtuale nello stesso scenario di gioco si vedono l'uno l'altro e costruiscono insieme in un ambiente creativo come avere quindi uno spazio di pezzettini lego immaginate una stanza piena di lego dove gli si dice costruisci il tempio greco e tutti si mettono a giocare lo fanno ma in ambiente praticamente virtuale comunque questo è il raspberry che appunto oltre a essere un computer dicevo lo si collega e lo si usa come scheda programmabile per far muovere per esempio appunto la macchinetta ma alla fine di tutto come vi vi dicevo in introduzione io ho trovato bellissima bellissima questa schedina qua si tratta di un progetto di una fondazione una fondazione quindi non è nata con lo scopo di lucro è una fondazione promossa dalla BCC che è l'ente sapete un canale televisivo inglese che però già negli anni 80 aveva creato dei computer che funzionavano con linguaggio basic simili ai Commodore 64 per diffondere l'utilizzo della programmazione informatica negli anni 80 e oggi al tempo del coding ripropongono questo obiettivo con questo tipo di dispositivo con questo piccolissimo computer che a differenza di di Arduino per esempio ha già moltissimi sensori integrati quindi c'è già ad esempio il rilevatore magnetico c'è già un accelerometro un microfono ci sono ci sono ci sono dei pulsanti quindi degli input programmabili pulsante A B si possono cliccare insieme un logo che è sensibile al tocco poi c'è un sensore di temperatura poi c'è una matricia LED con 25 LED attraverso i quali poter costruire segnali messaggi scritte numeri in maniera molto semplice e poi c'è vedete una piccola rastrelliera di contatti che permettono attraverso dei cavetti a cocodrillo per esempio come questo permettono di collegare un circuito elettrico di qualsiasi tipo quindi anche preesistente e farlo diventare intelligente cioè per esempio la lampadina si accende magari quando clicco il pulsante A oppure quando sente che parlo oppure la lampadina si accende quando inclino per esempio la schedina diciamo che su questa fascia di articolo troverete altre soluzioni commerciali per esempio è molto simile a questa schedina anche come prezzo la soluzione che si chiama make block della all code della make block è sempre una piccola schedina programmabile con i led lo trovate su vari fornitori di materiali quindi la schedina costa tipo 25 euro e consente in poche ore in una classe per esempio di scuola primaria di fare di fare fare qualche cosa di molto concreto ai bambini ad esempio imparano con una programmazione a blocchi del tutto simile a scratch come per esempio far comparire il loro nome che scorre cliccando un pulsante o inclinando la schedina o cose di questo tipo che adesso andiamo anche a vedere ma tra le altre cose diciamo che tra i vantaggi c'è quello di avere una comunità di persone che trovano soluzioni e offrono soluzioni in termini di lezioni in termini di percorsi formativi sempre nuove e stimolanti perché questa schedina qua per esempio è stata data a tutti i bambini delle scuole nella fascia tra gli 11 e 12 anni un paio d'anni fa in Inghilterra adesso verrà data a tutte le scuole primarie inglesi nella primavera 2022 e anche a tutti i bambini delle scuole norvegesi e sono state create più di 5 milioni di queste schedine che vengono utilizzate da più di 20 milioni di studenti in tutto il mondo quindi capite che si tratta non della solita per virgolette soluzione commerciale fatta per vendere ma ha dietro proprio una comunità viva di educatori e di studenti che ci lavora tutti i giorni e quindi attraverso anche le piattaforme di sviluppo vado a incontrare tante attività interessanti perché questa schedina si programma attraverso una piattaforma online quindi non ha bisogno per esempio di installare alcun software sul computer volendolo si fa per esempio c'è l'applicazione dal market windows si può scaricare su computer windows gratuitamente l'applicazione per diciamo programmare ma la trovo semplicemente online quindi vado a farvi vedere dunque questo qua ecco qui ok ecco spero ditemi se vedete chiedo conferma magari si vede benissimo ok questo qua il sito del della della microbit che nella sua fondazione ha 29 partner tra cui samsung tra cui arm tra cui win microsoft che ha sviluppato la piattaforma e come vedete scorrendo trovo già tutta una serie di stimolanti attività da poter percorrere sotto forma di tutorial e poi qua mi costruisco mi costruisco le mie i miei programmi come per esempio vado a creare uno nuovo lo chiamo prova uno e si apre un ambiente a blocchi che è del tutto simile come sempre appunto a scratch con la diciamo con la bella cosa che qui a sinistra vedo la schedina virtualizzata il che in realtà mi consente di fare dei percorsi con gli alunni anche senza possedere queste schedine cioè in pratica se io entro in questo mondo microbit senza spendere un solo euro semplicemente sfruttando la piattaforma posso far fare ai miei alunni un percorso di robotica quindi per esempio non lo so gli dico per per sempre anzi no facciamo ingresso quando premi il pulsante A fai vedere sulla matricia LED posso disegnare qualche cosa per esempio una faccetta andando proprio a disegnare i LED i 25 LED così come voglio che si accendano sulla scheda ed ecco che vado sulla schedina virtualizzata clicco il pulsante A e questo è l'effetto cioè si vede proprio la schedina che mostra i LED accesi chiaramente non ha appunto solo i LED ha i sensori ha gli accelerometri per cui che cosa ci posso fare posso fare tantissimi esperimenti di scienze che riguardano per esempio l'utilizzo dell'accelerometro la bussola quindi dei percorsi anche multidisciplinari che possono andare per esempio non so in geografia costruisco la bussola costruisco la bussola per orientarmi spiego l'orientamento eccetera e poi la costruisco in sfrutto l'altoparlante e poi questa schedina tra l'altro può essere connessa facilmente a delle casse con un piccolo utilizzo diciamo anche con le cuffie andando a utilizzare cavetti coccodrillo e quindi posso sentire in cuffia quindi loro vedono proprio come funziona il jack per esempio di una cuffia stereo e posso andare a utilizzare tutta la parte di programmazione musicale che mi permette di fare cose del tipo andare a programmare uno spartito cioè un semplice spartito come potrebbe essere che ne so fra Martino ecco che lo vedo sotto forma di spartito lo decodifico e lo ricodifico con i blocchi attraverso la programmazione usando il tempo usando i suoni eccetera quindi percorsi musicali posso in scienza appunto utilizzare i sensori per tutta una serie di osservazioni posso chiaramente usare tutti gli operatori matematici per il calcolo e la statistica posso costruirmi soluzioni anche per tutto anche per l'italiano non lo so per esempio una cosa che ho sperimentato ho trasformato il microbit in un kubist store quindi i bambini agitando vedevano visualizzare una delle parole che avevano scelto avevano creato un repertorio di parole chiave per creare delle storie e agitando la schedina vedevano visualizzata una delle parole a caso che doveva essere poi utilizzata per creare la storia e quindi poi si creavano dei gruppi di lavoro per costruire storie in questo modo quindi si può fare un po' di tutto io vi faccio vedere per esempio un brevissimo filmatino di un minuto e mezzo del laboratorio dedicato più alla robotica che ho portato a termine a giugno in occasione di scuole del piano estate quindi si tratta di quattro incontri da circa due ore quindi per otto ore e vado a farvi vedere il filmato in cui si vede appunto i bambini che attaccano a questa schedina dopo un'oretta in cui hanno provato a programmare con i blocchi cose molto semplici a livello virtuale quindi guardando gli effetti sulla scheda virtualizzata poi ecco che si mettono in gioco attaccando la schedina a dei circuiti a dei pulsanti e vanno a creare dei videogiochi e poi inseriscono la schedina in un robot car e fanno un contest fanno un contest per riuscire a squadre divisi a squadre per portare la propria macchinetta più vicino al target facendo un percorso diciamo sì non lineare ecco Gian Piero c'è una parte audio che devono sentire i nostri no c'è la musica perché non si sente ti avviso ok ok beh non importa parlo io diciamo commento vedete che ci sono dei pulsanti simili a quelli delle sale giochi un joystick che ha dei semplici interruttori tutto è collegato alla schedina e quindi loro costruiscono il videogioco sulla schedina cioè questa è la parte di sviluppo del videogioco e questa è invece la parte in cui c'è il contest dove le squadre hanno progettato hanno programmato il prodotto a livello software devono così sfidarsi questa ecco questa macchetta qua vedete ha un crepol per soluzioni diversa ma i bambini ci hanno impiegato 10 minuti perché l'ambiente di sviluppo è praticamente similissimo fermo ok fermo perché io sento l'audio e e quindi vi faccio vedere per esempio come quindi ricapitolando è una schedina che ci permette di fare dei percorsi in piattaforma è una schedina che ci permette di fare cose legate alla robotica rendere intelligenti i circuiti ci permette di essere montata su kit già che posso comprare a parte ma anche posso costruirmeli quindi la macchinetta in questo caso era una comprata ma se voglio me la faccio io e la collego e la collego a questa schedina e poi invece vi faccio vedere come per esempio si può utilizzare legata per esempio con scratch quindi qui siamo in scratch io cosa faccio prendo la mia schedina la collego via cavo in questo caso ma potrei collegarla anche via bluetooth perché ha anche quello questa schedina quindi l'attacco via cavo col computer al computer ecco qui ora vado vedete che vado ad aggiungere i blocchi le estensioni di microbit appunto che si offre già come integrato in scratch trovo la schedina e la collego ok e adesso faccio un semplice programma nel quale vado a dirgli per esempio che quando clicco sulla bandierina per sempre se forse vediamo una finestra diversa da quella in cui stai programmando perché vediamo clicchi ma non si vede il programma ok allora aspetta aspetta che forse sì perché ho messo in condivisione vediamo un po' la finestra invece vado a vediamo se trovo dunque audio computer ecco qui scratch dovrebbe essere questo ecco adesso vedete scratch sì adesso si vede sì perfetto grazie sai Lorenzo allora quando si clicca sulla bandierina per sempre ecco vi facevo solo notare che qui in basso scratch offre la possibilità di aggiungere delle estensioni tra queste estensioni c'è anche microbit quindi io l'ho già fatto sono andato a cliccare i cubetti di microbit e quindi vuol dire che adesso oltre ai normali vedete le normali sezioni che abbiamo visto prima con Lorenzo si è aggiunta una chiamata microbit che ha dei comandi dedicati a questa schedina e quindi adesso li utilizzerò quindi per sempre se metto se if then vado a inserire per esempio il pulsante a quando premo il pulsante a il gattino farà dieci passi adesso vado a un attimino che si ok vediamo se funziona allora premo il pulsante a e il gattino vedete che fa i suoi passi lo rimetto indietro ora duplico e vado a sostituire ad aggiungere anche il pulsante b e farà meno dieci passi quindi tornerà la bandierina andrà avanti e andrà indietro ora invece di utilizzare i pulsanti ad esempio vado utilizzare vado utilizzare il sensore dell'accelerometro e quindi uso i comandi dell'inclinazione quando sarà inclinato verso destra e quando sarà inclinato verso sinistra ok vedete che già risponde ecco così si tiene ecco che il gatto va di qua e di là sfruttando il sensore dell'accelerometro della scheda e questo è un esempio di torniamo al punto di partenza di come da scratch si può passare facilmente alla robotica perché si passa a una soluzione come questa dopodiché da scratch possiamo passare appunto alla piattaforma di sviluppo della schedina e poi possiamo utilizzare la schedina quindi da sola nella robotica è chiaro che la schedina funziona anche con una vano batterie due batterie mini stilo che si attaccano a questo connettore quindi ci permettono di ad esempio agganciare la schedina una volta che l'ho programmata che gli ho detto quando senti che vai a sinistra per esempio emetti un suono e fai una luce ecco che la collega una bottiglia se la bottiglia cade praticamente emetterà un suono e si accenderà un led e quindi ecco che ho costruito oppure ogni volta che fai un movimento che percepisci un movimento aggiungi uno ed ecco che diventa un contapassi che è legato a un piede va a misurare i passi ora da qui i bambini capiscono che allora nella bicicletta come funziona nella bicicletta il contachilometri registra un passaggio ogni volta che un certo raggio a cui è attaccato un sessore magnetico passa vicino e aggiunge uno e quindi farà una moltiplicazione moltiplicherà il numero di passaggi per la lunghezza della circonferenza della ruota andando a calcolare per esempio quanti chilometri che percorso ha fatto fino a quel momento un ciclista si può un altro esempio molto semplice di come si può essere utilizzata nelle questioni anche matematiche non so per la statistica io ho fatto questo lavoro con gli alunni l'abbiamo trasformato in un dado quindi ogni volta che agitavamo la schedina veniva a fare un numero da 1 a 6 casuale abbiamo fatto l'analisi di una serie di lanci e abbiamo visto che c'era una percentuale su 6 che uscisse cioè c'era una probabilità scusate su 6 che uscisse un certo numero ragionando con due dati con due schedine oppure programmando la somma di due numeri casuali da 1 a 6 tutti i bambini avevano detto all'inizio ci sarà la probabilità da 1 a 12 che esca qualsiasi numero abbiamo fatto la sperimentazione e abbiamo visto che non era così che c'erano dei numeri che uscivano con più frequenza dei numeri con meno frequenza quindi loro dopo essersi costruiti il dado virtuale lo hanno utilizzato e hanno registrato su carta e penna 50 lanci che cosa usciva ottenendo un grafico che si alzava e si abbassava e hanno così ragionato abbiamo ragionato insieme sul perché accadeva questo e abbiamo capito poi il concetto siamo arrivati ad approfondire il concetto di probabilità abbiamo fatto la stessa cosa con i dadi fisici abbiamo ottenuto lo stesso identico risultato ma abbiamo capito che con microbit potevamo accelerare tutto questo processo facendolo diventare molto più veloce e quindi abbiamo capito che la robotica può essere utilizzata per esempio in una tecnologia come quello per testare un macchinario un macchinario che deve fare dovrà fare un movimento che si ripete invece noi possiamo simularlo molto più velocemente quindi si può utilizzare ecco che queste macchine vengono utilizzate per esempio nelle fabbriche per capire a livello statistico che cosa succederà nel tempo a un certo appunto meccanismo un certo processo e tutti questi concetti diciamo li abbiamo così raggiunti attraverso dei programmi di coding così in questo caso basati sulla sulla matematica e sulla statistica cosa è molto semplice che si possono fare tranquillamente nelle scuole elementari volevo solo farvi vedere anche un'altra piattaforma questo proprio come come cosa interessante perché dopo dopo abbiamo finito quindi riprendo un attimo la scheda questo qua di make code questa che dovreste vedere vado a farvi vedere una una piattaforma concorrente quella della per esempio mblock che fa che fa la scheda come si chiama l'olacode della make block vedete che in questo caso siamo sempre su una piattaforma similissima a quelle che abbiamo visto finora addirittura qua vediamo praticamente scratch scratch sostituito da un panda ma i pezzettini e le sezioni sono le stesse solo che poi c'è la parte anche del dispositivo che come abbiamo fatto prima si può collegare alla parte di programmazione per far fare qualche cosa anche all'esterno non solo all'interno del monitor in virtuale ma anche in concreto all'esterno anche questa piattaforma è completamente gratuita ed è sfruttabile al posto per esempio di scratch per fare le stesse cose chi acquista per esempio questi kit della della make block invece che passare per scratch utilizzerà direttamente la piattaforma dove dalle basi utilizza il panda e poi può introdurre nello stesso ambiente anche la scheda esterna della robotica così come abbiamo fatto con scratch introducendo microbit vi dico anche un'altra cosa bella che ho visto che da qualche tempo da qualche mese microbit ha introdotto una piattaforma per il coding a distanza vuol dire che io come docente apro una piattaforma come questa metto dei pezzettini metto dei pezzettini anzi vi faccio proprio vedere posso Lorenzo anche rubare ancora un secondo di questa cosa molto interessante sì sì facci vedere sono curioso prima di tutto io poi arriviamo verso la fine se questa è l'ultima cosa l'ultima cosa prometto poi poi mi taccio allora vado su classroom sì microbit.org quindi esco dalla piattaforma dunque parto da un'attività quindi lo scopo mio in questo caso qual è chiedere agli alunni di fare a casa per esempio di completare un percorso di coding che ho introdotto ad esempio in laboratori a scuola oppure se siamo in dad glielo faccio proprio per fare in piattaforma usando una specie di ambiente classroom a livello del coding quindi apro la mia attività che per esempio la chiamo emozioni decido di programmare non in python ma in a blocchi perché ecco altra cosa che non ho detto è che queste schedine poi si possono programmare anche in linguaggio scritto oltre che nell'ambiente a blocchi quindi vuol dire che voi potete creare anche dei percorsi di istituto verticali in cui l'elementare si programma con i blocchi alle medie o in terza media per esempio la stessa schedina la si programma col coding scritto in ambiente python o javascript adesso vado a lanciare la mia classe e vedete che qui ho l'editor posso per esempio inserisco questi blocchi due blocchi e cosa dico la consegna è questa quando premo il pulsante A dovrai fare dovrai disegnare una faccetta che ride quando poi tu dovrai in autonomia fare la stessa cosa col pulsante B ma in questo caso una faccetta triste e condivido solo questo pezzettino del codice quindi gli offro gli facilito l'avvio dell'attività con questa introduzione se vado sulla dashboard di questo ambiente vedo che posso dare l'url da incollare quindi i miei alunni gli inserisco questo microbit.org join poi avranno un codice da inserire dunque ditemi se vedete vedete questa nuova finestra che si è aperta con google ho visto comparire una cosa rapidamente ma poi è sparita non so se era quella allora facciamo così vedete che c'è orange lion car e umbrella dunque adesso mi sposto devo cambiare di nuovo la finestra perché voglio farvi vedere mio figlio per esempio che cosa vede all'ingresso quindi vado a selezionare una nuova condivisione e questa volta scelgo questo ora dovreste vedere la scheda del mio figlio sì il mio figlio andrà in piattaforma e selezionerà il codice di colori che abbiamo visto prima essere orange lion car e umbrella orange e umbrella e metterà il numero dell'attività che è questo che vado a copiare e poi vado di nuovo a incollare qui ok definisce il suo nome ecco io da insegnante vedo che Giacomo si è entrato nella nell'attività e quindi posso andare a condividere il codice di attività e quindi eccolo qui Giacomo troverà in piattaforma l'attività preimpostata da me e questo lo troveranno tutti gli alunni tutti gli alunni che faranno questo troveranno questa qua ognuno costruirà il suo codice quando ha finito you have finished cliccherà qui quindi farà per esempio la faccetta allegra circa poi farà anche il codice con il pulsante B con la faccetta invece triste e quando il suo lavoro è finito you have finished e quindi si darà una definizione così sul suo lavoro e su come si sente contento e ha finito lato insegnante vedrò chiaramente in piattaforma che il mio studente ha finito mi adesso mi rilogo mi sconnetto mi riconnetto eccomi qua ok e adesso io vedrò qua tutti gli alunni e vedrò anche i codici posso anche stamparmi un report in formato word delle attività fatte quindi molto bello perché non solo apriamo una piattaforma di sviluppo a scuola ma a parte che a scuola possono anche con la vecchia con la piattaforma standard continuare a casa non c'è problema però in questo caso proprio siamo in un ambiente più finalizzato all'obiettivo e quindi e quindi anche questo è un bel lavorare con questi strumenti a disposizione ecco io ho detto un po' di cose un po' sinceramente un po' abbraccia spero che il mio discorso sia stato utile e quello che volevo solo che passasse riepilogando è che il frutto di tutta una serie di sperimentazioni mi può far dire oggi che per la scuola primaria per i bambini dai 7 ai 10 anni sicuramente microbit è una soluzione adatta e per gli insegnanti della scuola primaria che dovranno fare lezione sul coding è una soluzione che apprendono in pochissime in pochissime ore e che gli permette di condurre delle lezioni in maniera efficace su questi concetti di informatica e sulla robotica spendendo poco e qua mi taccio grazie grazie mille Giampiero utilissimo tra l'altro io sto cominciando a usare microbit quest'anno con i miei alunni e è utilissima questa parte su classroom che non conoscevo quindi mi ha già dato un ottimo spunto nel frattempo vi faccio vedere che lo trovate direttamente dentro il form il form per chi è spaventato da farlo semplicemente vi chiede dall'inizio in quali ambiti volete sviluppare le vostre competenze in quest'anno ce ne sono tantissimi come vedete e c'è anche la voce altro perché sicuramente qualche cosa abbiamo ho dimenticato la valutazione per noi è utile su come è andata oggi e poi nella pagina successiva ma l'ho scritto anche nella chat è completamente facoltativo se il vostro istituto sapete siete degli animatori digitali sapete che siete interessati non è che è un ordine vedete che abbiamo già delle proposte alcune immediatamente operative alcune insomma già cantierizzate che vorremmo fare a breve quindi abbiamo il corso di coding e didattica con scratch che è composto da 8 video tutorial e 3 webinar i prezzi sono per istituto quindi se l'istituto acquista tutti i docenti dell'istituto possono partecipare dove ci sono webinar ai webinar ma soprattutto puoi anche avere l'accesso agli 8 video tutorial e tra l'altro questo accesso rimane anche per gli eventuali futuri docenti dell'istituto quindi è un acquisto che si propaga tra virgolette nel tempo poi abbiamo il corso di microbit che è già operativo quello diciamo primi passi nella robotica con microbit di cui praticamente Giampiero ci ha dato un saggio oggi 5 video tutorial e un webinar in cui appunto poi si si confronta con il formatore il formatore propone delle attività didattiche da realizzare e potete anche fare delle domande se mentre avete provato avete avuto delle difficoltà oppure delle curiosità poi abbiamo il nuovo corso il seguito tra virgolette che stiamo preparando che è l'idea di dare delle applicazioni didattiche il formato è sempre lo stesso 5 video tutorial e un webinar ma anziché concentrarsi su come funziona la schedina e come la si programma proprio dare delle applicazioni disciplinari sulla cosa poi qui abbiamo messo perché sono già pronti anche se non c'entrano con la robotica e il coding i corsi porta in classe la vostra piattaforma che abbiamo presentato in un altro webinar gratuito e quindi per chi ha imparato a usare le piattaforme didattiche fuori dalla scuola quando c'era la dad e adesso vuole capire che cosa si può fare in classe con le piattaforme ovviamente tantissime cose e poi qui abbiamo messo intanto Raspberry Pi che come vi ha detto Giampiero è una piattaforma molto aperta quindi siccome può essere utilizzata da semplicemente costruire un laboratorio informatico a fare applicazioni di robotica ad avere una sensoristica di istituto per vedere la stazione meteorologica per dire una serie di ipotesi in quel caso il percorso lo facciamo in base a quello che è il vostro orientamento ma come vi dicevo non è finita qui perché vogliamo elaborare di nuovi corsi e non l'ho detto dall'inizio mi pento perché volevo dirlo come prima cosa ci piacerebbe finalmente vederci di persona sperando che le condizioni della pandemia insomma ci agevolino ma vorremmo magari cominciare con voi magari con questo percorso anche con il webinar e i video tutorial ma poi ci proporremo e ci proponiamo da subito per venire nei vostri istituti laddove vogliate avere della formazione da parte nostra e metterci le mani insieme su queste schedine o sui robot eccetera eccetera perché insomma è il ci piace vederci e queste cose sicuramente sono più facili anche da spiegare ed aiutarvi a comprendere anche dal vivo così Grazie a tutti.